buongiorno a tutti siamo contenti di avere qui con noi il vice sindaco del comune d'imperia l'avvocato fossati e il dottor romeo il nostro amico olmo della cna d'imperia per presentare le bellezze turistiche ma anche enogastronomiche alla vicina costa azzurra cannes all'annex avvocato le reazioni con la francia sono molto sono molto strette il sindaco ci tiene tantissimo voi avete tante tante reazioni e per noi la vostra presenza qui è fondamentale come riparte il turismo in liguria in provincia d'imperia dopo il covid ma sì come dice giustamente lei sindaco e la città d'imperia tiene molto ai rapporti con la francia perché sono fondamentali per il tipo di sviluppo che vogliamo dare alla nostra città imperia è una città che ha un passato industriale molto forte ma si sta riconvertendo ormai da diversi anni a un tipo di economia turistica quindi rapporti con la francia in particolare con la costa azzurra con nizzardo sono fondamentali perché sono un po il nostro mercato ideale no come gli italiani del ponente vanno volentieri in costa azzurra e vengono volentieri qui a cannes noi speriamo che presto come già adesso succede i francesi vengano molto volentieri ad imperia in particolare nel ponente ligure dopo il covid sta ripartendo bene devo dire c'era molta preoccupazione perché è stato un periodo veramente difficile in italia come penso anche in francia e ovviamente in tutto il mondo però queste prime avvisaglie di stagione iniziate sono molto positive la gente ha piacere di uscire ha piacere di incontrarsi di vivere e quindi anche il turismo sta sta ripartendo molto bene nel nostro territorio dottor romeo lei è una grande esperienza associativa nel sistema ligure della della cna la sua azienda la sua esperienza di imprenditore un po un gioiellino perché un po il fiore il fiore all'occhiello io ho visto i due bei locali che a saremo anche per lei come vive questa questa ripartenza e come sta andando in provincia di imprenditore in particolare prima un intervento da imprenditore allora eravamo molto preoccupati perché il covid ci ha messo davanti un'evidenza che era quella della difficoltà di avere rapporti con i nostri vicini francesi che sono oltre che amici oltre che ottimi clienti anche la linfa vitale di tutte le attività del ponente quindi molto del nostro mercato è orientato verso di loro soprattutto le eccellenze enogastronomiche e io come ricordava lei direttore ho due attività proprio inerenti su quello quindi la vendita dei grandi salumi italiani che in francia molto si conoscono ma che loro non producono e poi i nostri formaggi tipici per dire le cose più caratterizzanti ma poi l'olio il vino e tutto quello che ci fa ben conoscere la nostra cucina detto questo devo dire che anche io ho avuto la stessa sensazione del nostro vice sindaco fossati che il mercato ha ripreso c'è tanta voglia di ritornare in italia almeno la stessa voglia che abbiamo noi italiani di venire a visitare la francia quindi questa interconnessione questo scambio continuo non solo ci porta ad alzare molto l'offerta e le aspettative sia da parte nostra che da parte dei cugini francesi ma soprattutto porta stabilità economica ad un territorio che in realtà ha solo la barriera come confine ma che noi sentiamo nostro e quindi la grande sfida deve essere quella di proporre questo territorio unico e complimenti va invece alla camera di commercio a voi inizia che siete riusciti a fare questo ad amalgamare delle realtà seppur vicine magari non conosciute perché la grande sfida qual è quella di creare un unico prodotto e proporlo al resto del mondo io portavo già questo esempio quando ho avuto la fortuna di amministrare il casino di sanremo e di essere il presidente dei casino italiani io sfido chiunque a prendere un cinese un indiano di altissima levatura e alto spendente mettete una cartina davanti e ditegli di indicare dove sanremo non riesce a indicare dove roma non riesce indicare dove venezia quindi immaginatevi un pochettino se noi riusciamo a proporre un qualcosa che per noi è stupendo ma che in realtà non va oltre la nostra cerchia questa è la grande sfida voi la state interpretando bene quindi noi ci siamo ringrazio per i complimenti dottor romeo il mio staff eccezionale ma siamo bravi perché abbiamo la spinta da parte una spinta importante da parte degli impenditori delle associazioni e degli enti e degli enti locali avete previsto altre azioni di promozione in giro per il mondo oppure state partendo ora e magari con un'attenzione forte verso solo verso la francia l'attenzione verso la francia naturalmente molto forte nel senso che è naturalmente la parte più vicina a noi come diceva prima dottor romeo io lo vivo sulla mia pelle come lo viviamo tutti noi quando andiamo in vacanza difficilmente andiamo in un posto specifico andiamo in un'area e l'area naturale a mio avviso del ponente ligure come della costa azzurra è un'area comune quindi chi viene in vacanza in costa azzurra deve avere la possibilità di conoscere poter frequentare il ponente ligure e viceversa quindi le due aree possono aiutarsi è importante quell'attività che voi fate perché i comuni hanno sempre più bisogno di proporsi sul mercato e quindi realtà come le vostre insieme a realtà imprenditoriali possono svolgere questo ruolo. Imperia ha già dei gemellaggi importanti con realtà straniere con città straniere ne sta facendo una con l'importante città francese con Megev che è una città molto importante anche turisticamente molto significativa e vogliamo puntare anche su quello cioè andare a proporre la nostra città anche al di fuori dell'area mediterranea diciamo andare magari un po più in questo caso verso la Savoia quindi un po più verso nord come già abbiamo un gemellaggio con la città tedesca molto importante sul lago di costanza che è fridischrafen una città di nuovo molto molto importante sede del dello zeppeling voi ricordate noi il dirigibile quindi una città molto ricca tra l'altro e che ha un forte amore per per il nostro territorio con i rapporti sono molto stretti noi speriamo che con Megev si possa attivare lo stesso percorso e quindi creare questo circuito virtuoso dove realtà cittadine di diversi paesi ma di paesi vicini che hanno delle comunanze nel caso della Francia delle radici storiche e culturali assolutamente vicine assolutamente compatibili e compenetrate possono lavorare insieme per una crescita comune di questo territorio avvocato ancora una domanda questa è una curiosità noi che viviamo in Francia vediamo perché poi la sua delega all'urbanismo noi che viviamo in Francia vediamo che qua si costruisce si fa e si disfa tutto velocemente si costruisce velocemente si fanno programmi a 10 20 anni ma perché non in Italia non non ci riusciamo lei tocca un punto dolente un punto dolente la mia delega all'urbanistica è una delega importante perché si tratta di programmare e pianificare la città del futuro io credo che in passato si siano commessi tanti errori nel nostro territorio in particolare noi abbiamo un territorio molto bello come molto bello quello della vostra zona io credo che sia stato preservato meglio dalla parte francese un po' meno dalla nostra parte quindi riuscire a pianificare delle città diverse più a misura d'uomo e anche esteticamente più gradevoli come siete riusciti a fare in Francia no in particolare in questa zona è una sfida per noi che raccogliamo quindi è sempre un piacere venire venire anche in costa azzurra nello specifico a Canna e guardarsi intorno per rubare qualche idea no e pensare il nostro sindaco un grande amante del vostro territorio molto spesso nelle riunioni che facciamo diciamo ma andate un po' in Francia andate a vedere come fanno in Francia prendete esempio da loro anche per la cura dei particolari dottor dottor romeo gli italiani amano la Francia i francesi amano l'italia noi lo vediamo che appena sono state riaperte le frontiere ma anche quando c'è bisogno del test quindi vengono e venivano vengono e verranno sempre volentieri abbiamo qualche consiglio da da dargli per visitare la provincia d'imperia qualche consiglio da dare agli amici francesi in questo caso beh sicuramente non fermarsi alle solite mete quindi andate a visitare le città più conosciute come ventimiglia perché la si incontra e poi sanremo imperia però non fermatevi lì iniziate ad apprezzare anche tutto il nostro introterra c'è un bellissimo progetto che si sta sviluppando e che vede la collaborazione di tanti comuni e devo dire che spero ci possa essere una compartecipazione importante anche dalla parte della provincia che dovrebbe essere poi l'ente che va a catalizzare a canalizzare tutti questi interessi e organizzarvi che è il nostro outdoor che è il nostro introterra e gli amici francesi su questo hanno localizzato tante città penso a grass penso a mugini penso ad altri paesi che però si limitano su un aspetto specifico la nostra grande sfida se vogliamo interpretarla così deve essere proprio quella di riuscire a promuovere un territorio per un soggiorno che possa ampliarsi su tutte le aspettative quindi la serata il buon ristorante la cucina che tanto i nostri amici francesi apprezzano e che anche noi italiani si vede anche dal peso quindi voglio dire neanche noi lo disdegniamo per poi riuscire a spostarci invece in uno sport particolare perché non dimentichiamo sempre io questo crucio del turismo internazionale la grande forza del nostro territorio del nostro territorio specifico non solo italiano ma anche della prima parte francese è la destagionalizzazione noi siamo fortissimi durante l'inverno perché qua non fa mai freddo noi quando fa freddo ci sono 8 gradi 10 gradi e ci sembra al polo nord e pensiamo invece a tutto il nord dell'europa che è tagliato fuori da qualsiasi attività sportiva all'esterno e da qualsiasi altra attività quindi noi non apprezziamo o non valorizziamo questo aspetto bravi a far turismo d'estate bene venite a trovarci però dobbiamo promuovere il nostro territorio soprattutto d'inverno e cosa diciamo di riportare poi in francia l'olio le olive taggiasche e quale piatto ordinare nei ristoranti beh la cucina italiana io so per per esperienza diretta che una delle cose più apprezzate proprio la pasta e bravi come la faccia bene come la facciamo noi e bravi come siamo noi a farla devo dire che è difficile replicarla quindi sicuramente la pasta venite a mangiarla in italia e poi se riuscite portatela anche di qua e fatevi dare qualche trucco sulla cottura l'olio l'olio taggiasco le nostre olive le nostre aziende del territorio sono bravissime molte volte sono bella abbiamo visto oggi come esempio sui tavoli è riuscita ad arrivare una un frantoio pugliese e non un frantoio italiano quindi anche non un frantoio ligure taggiasco quindi anche su questo e di nuovo lancio a te la sfida è su questo cercare di creare un circolo virtuoso che possa portare all'esperienza totale perché è vero è sempre un olio italiano buonissimo il pugliese però se sullo stesso tavolo riuscissimo a far capire anche la differenza tra i due oli quindi anche un gioco per il commensale l'olio pullese l'olio taggiasco e dare il riferimento a entrambi io penso a tutto quel turismo russo a quel turismo estero veneto cinese indiano tutto quello americano che vive per ciò che la pubblicità gli comunica e beh questa sarebbe davvero una bella esperienza fargli capire che l'italia non esiste solo un olio non esiste solamente una pasta non esiste solo un sugo ma esistono talmente tante tipologie e caratteristiche che rende non solo il nostro paese l'unico nel mondo ad avere tutto questo ma che è un piacere riscoprirlo di continuo e quindi continuate a venire in Italia grazie ai miei francesi, non abbiate di utilizzare l'applicazione Visite l'Italie vi troverete molti consigli e per gli imprenditori italiani invece c'è un sito marketplace dove si trovano tanti prodotti tipici più di 100 italiani dove si possono vendere direttamente al consumatore francese grazie a tutti